Io ogni tanto faccio questo discorso, pensate, vedete questo mio cellulare? Ma vi sembra normale che la prima azienda al mondo ha una batteria che io non arrivo stasera? No, ve lo dico per dire che la tecnologia delle batterie, siamo ancora lontanissime da aver trovato quelle batterie essenziali per le rinnovabili.